Stiamo trasmettendo in diretta una riqualità amena o ameno non vogliamo turbare con nessun commento di fondo la parolaccia dell'eventuale parida di pesce abbiamo agganciato un barbo al volo ed ecco che ed ecco che il samaroth pescator cerca in qualche modo di intrufolare all'interno della rete il barbone il barbone il quale è stato agganciato pensate dalla pinna potete notare dalla pinna esterna questo si chiama botta di culo questa si chiama botta di culo aver sbarbato un barbo che si è già autoslamato si è già autoslamato possiamo vederlo adesso lo fotograferemo mentre bacerà caldamente con la lingua il pesce mentre bacerà caldamente con la lingua il pesce ecco mettitelo un po più su dagli bacino dagli bacino ecco qua ecco bacino adesso fermo lì facciamo una foto almeno fermo lì